Le aree interne sono penalizzate e hanno organici inadeguati per la scuola. La denuncia della segretaria generale FLCCGL dell'Aquila e Miriam del Biondo sull'attribuzione dell'organico dei docenti e del personale ATA. Per la del Biondo, alla provincia delle aree interne, nello specifico, non viene data la possibilità di lavorare con organico completo per garantire un anno scolastico disteso. Le scuole delle aree interne fanno fatica a sopravvivere anche per scarsità di personale assegnato. Scuole distanti, anche 40 km dalla sede principale, che rappresentano però l'ultimo presidio in zone destinate allo spopolamento. Sono 98 posti in provincia da collaboratore scolastico, 3 assistenti amministrativi, un assistente tecnico, su 47 istituzioni scolastiche. Dopo la fine del governo Draghi, la questione scuola è ancora più complicata. Manca un interlocutore in un momento essenziale. I problemi ormai annosi sono quelli con le scuole, soprattutto quelle delle aree interne della nostra provincia, si troveranno a fare i conti con un organico che è sempre inferiore rispetto alle necessità per un normale funzionamento delle attività didattiche e per l'organizzazione. Avevamo già l'allarme rispetto al cosiddetto organico Covid, che negli anni scorsi è stato assolutamente utile per tutto quello che riguarda la garanzia di misure di distanziamento, di igienizzazione e così via. Ma ha mostrato anche che le scuole sono sottodimensionate in quanto ad organico e sappiamo che con la fine dell'emergenza non avevamo già la certezza che questo organico fosse riproposto anche per il prossimo anno. Adesso con la situazione politica nazionale che si è venuta a creare il rischio che la mancanza di un'interlocuzione, quindi la mancanza in qualche modo anche di una continuità, vada ad aggravare una situazione già di per sé gravissima.